Gentili telespettatori, buona giornata. Rita Dalla Chiesa dice che Repubblica scrive sotto dettatura. La Dalla Chiesa è furiosa con la Repubblica. Perché? Perché gli hanno fatto un articolo su di lei. Cos'è successo? La Dalla Chiesa assieme a tante altre persone note stanno pubblicando post, messaggi sui social dove parlano della capitale di Roma che è ridotta un disastro. Io vi dico, quando sono stato ad aprile, non ho visto dei miglioramenti notevoli. Però i rombani mi hanno detto, ma che stai a vedere? Tu vedi i miglioramenti, ma non stanno? Da un anno che ero venuto, l'anno prima, ad aprile, ho visto dei miglioramenti enormi, giganteschi. Sulla litoranea, quella che va da Ostia a Villaggio Tognazzi, ho visto tagliare tutti gli alberi, pulire le dune, riasfaltare, rifare le recinzioni. Ho visto tappare le buche ad Ostia, non c'era più spazzatura in giro, manco un sacchetto. Ogni tanto spunta fuori qualche lavatrice, perché con la maleducazione della gente che ti porta la lavatrice sotto casa o la porta di casa, lì cosa ci puoi fare? Insomma, non puoi combattere contro centinaia di migliaia di persone. Quindi ho visto dei miglioramenti notevoli, però forse era solo nella zona di Ostia, litoranea, dove magari c'è un sindaco, un mini sindaco che sta facendo grandi cose e magari il resto della città metropolitana è un disastro. Io ho visto a posto, però non ho girato tutta Roma. Io ho visto il centro, sono andato in centro, sono stato dalle parti di Ostia, Casal Palocco, non ho visto altre zone. Però i VIP che oggi commentano sui social dicono che fa schifo, proprio dice così, Rita dalla Chiesa. Rita dalla Chiesa solleva il problema, dice per esempio, oltre lo schifo della spazzatura bisogna stare anche un'ora in coda per un taxi. Sindaco di Roma, scrive dalla Chiesa, vuole venire qui a fare la fila con noi per prendere un taxi? Scrive la conduttrice deputata di Forza Italia su Twitter. Lei la fa mai la fila di un'ora e un quarto in questa città devastata dall'incuria e dall'arroganza? Non si vergogna? Dove sono finiti i taxi? Dice Rita dalla Chiesa. Oggi che lei è deputata è lanciatissima. Già prima era critica, oggi che è deputata, che è onorevole della Repubblica, è lanciatissima. E così esce sulla Repubblica un articolo firmato da Stefano Cappellini, che ho scritto Rita dalla Chiesa non trova il taxi e porta Gualtieri sul banco di Forum. Un altro politico scrive, da parte di Repubblica continuano gli attacchi contro Rita dalla Chiesa, colpevole solo di aver messo alla luce uno dei tanti problemi di Roma. Ancora una volta la cieca obbedienza dei media verso Gualtieri fa loro vedere solo la pagliuzza continuando ad ignorare la trave dei tanti disastri che sono sotto gli occhi di quasi tutti, dalla gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale all'abbandono del verde e delle periferie di Roma. Un post al quale risponde la diretta interessata dice Per fortuna Repubblica sta perdendo sempre più consensi. Chi vive a Roma conosce bene lo schifo nel quale siamo costretti a vivere. Difendere un sindaco inesistente come Gualtieri significa scrivere sotto dettatura. Sindaco inesistente, prima c'era la Raggi uguale, prima ce n'era un altro uguale. Io comincio a credere che il problema a Roma sia molto più profondo del cambiare un sindaco. C'è proprio un'amministrazione generale che va dai rifiuti alla regione, al comune, a quelli che gestiscono le strade. Io credo che sia una cosa molto ampia è il problema di Roma. Cioè il problema a Roma non è che fai l'inceneritore e Roma diventa come una città in Finlandia. Non c'è solo il problema della spazzatura, c'è il problema delle bughe, delle buche, del degrado, dell'erba che non tagliano, della vegetazione che sembra una foresta, degli animali, i cinghiali, i topi, le dune piene di tutti i tipi di cose, le spiagge, la pericolosità, il degrado sociale, ambientale. Cioè non è che fai l'inceneritore e hai risolto i problemi di Roma. Ne hai risolto uno. Qui i problemi sono tanti. I problemi a Roma sono tanti. e non credo sia un problema di soldi, sapete? La città di Roma è gigantesca. Non credo sia un problema di soldi, ma c'è qualcosa che mi sfugge a Roma. Io ho visto, per esempio, parlandovi sempre di Ostia, perché quando vado a Roma sto lì, a Ostia, per esempio, via delle Azzorre, hanno rifatto tutte le banchine centrali. Prima era una roba indecente, sembrava una foresta, tutto con l'incuria. Hanno rifatto tutte le banchine centrali. Hanno cementato, hanno rifatto le aiuole dove mettere gli alberi. C'è un'altra immagine, anche se poi la gente parcheggia ovunque. Però ho visto comunque delle migliorie, delle migliorie. Stavano rifacendo anche di fronte, come si chiama, lì in centro. Hanno rifatto delle banchine, poi la gente ci ha parcheggiato sopra le macchine. Comunque vedo che c'è un qualcosa, non credo dipenda dalla mancanza di soldi. C'è qualcosa che mi sfugge. Non riesco a capire il perché una capitale non debba funzionare, non debba essere sufficientemente in ordine come una qualunque capitale del mondo. Come avete visto, Gualtieri, magari domani ce ne sarà uno di destra, uno col pugno di ferro, ma... Cioè andare in tutte le vie di Roma, guarda il marciapiede, e la foresta, e il cinghiale, e il segnale stradale che è caduto, e le strisce pedonali che non ci sono. Cioè ogni via che vai a questo punto ci sarebbe da rifare completamente Roma. Forse il fatto è che sono troppi anni di incuria, si è arrivata a una situazione che dove anche se vuoi fare non sai da che parte cominciare. Hai dei soldi, cominci a fare lì, e dall'altra parte peggiora. Quindi io credo che sia come i salari in Italia. Trent'anni di incuria e ci sono i salari poveri. Credo che sia lo stesso a Roma. Decenni di incuria e si è arrivata a una situazione che oggi sistemarla ci vuole veramente troppo, troppo. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.